Cari amici di Media24, un cordiale benvenuto. Dopo i tamburi di guerra che annunciavano a Trieste il blocco totale del porto, i toni sembrano essersi smorzati e non si impedirà a chi vuole entrare a lavorare di poterlo fare. E tuttavia la giornata tra alti e bassi, momenti di tensione inevitabili, annuncia un tempo difficile che potrebbe dilatarsi anche in altre parti del nostro paese. L'idiglio tra il presidente del porto, Zeno D'Agostino, si è rotto. È probabile che D'Agostino attenda qualche giorno prima di dare le dimissioni annunciate per capire se il fronte del porto triestino manterrà la promessa di bloccare a oltranza le attività portuali se il governo nazionale non ritirerà il Green Pass. Ma la giornata di oggi a Trieste non è stata soltanto animata dai portuali, ma dalla presenza dei no Green Pass chiamati a raccolta proprio dagli stessi portuali. Una manifestazione dunque che ha assunto caratteristiche diverse da quelle di un vero e proprio sciopero, tra l'altro ha giudicato illegittimo, ma di una manifestazione che ha assunto toni più politici e di un certo senso ideologici. Si cerca di smorzare i toni, i due candidati alla carica di sindaco Di Piazza e Russo, anche se con sfumature diverse se non hanno calcato la mano da parte di Di Piazza, la raccomandazione ai portuali di non trascendere e di mantenere la situazione sotto controllo, da parte di Russo totale solidarietà a Zeno D'Agostino, a cui riconosce il merito di aver rilanciato il porto di Trieste e le cui dimissioni rappresenterebbero un ostacolo alla prosecuzione degli ambiziosi programmi di crescita. Come avevamo annunciato, ieri anche Sacile oggi è stata sede di una manifestazione no green pass come a Udine. Dunque disagi e forti preoccupazioni nella logistica, non solo portuale, ma anche degli autotrasportatori. È augurabile che questo fine settimana aiuti a rimettere in ordine le cose per evitare che della prossima le preoccupazioni di oggi si trasformino in pericolose ricadute sul nostro sistema economico proprio nel momento in cui la ripresa sta dando risultati straordinari per l'Italia. E intanto la Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali ha proclamato uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati ad oltranza dalle ore 0 di oggi 15 ottobre fino alla mezzanotte del 20 ottobre 2021. A riguardo il Comune di Gorizia comunica che verranno garantiti i seguenti servizi essenziali. Stato civile, accoglimento delle registrazioni di nascita e di morte, servizi cemiteriali relativamente agli aspetti amministrativi e relativi, servizi assistenziali e sociali, servizi di pronto intervento e di assistenza anche domiciliare per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione, la somministrazione, di vitto a persone autosufficienti e ai minori affidati alle apposite strutture a carattere residenziale. Verranno inoltre garantite l'attività di pronto intervento sulla rete stradale, il servizio cantieri, limitatamente la custodia e sorveglianza degli impianti, l'attività di pronto intervento della Polizia Municipale, il servizio di protezione civile. Vorrei adesso solo brevemente soffermarmi sul caso di Giulio Regeli che qui il messaggero riporta in una delle sue pagine. Come avete potuto vedere anche delle notizie date ieri dai telegiornali, il processo è stato sospeso per l'assenza degli 007 egiziani imputati della tortura e della morte del giovane friulano. Una pugnalata ai genitori del ricercatore che attendevano questo momento per dare un volto agli assassini di Giulio e onore alla sua memoria. Non era certo che gli agenti egiziani fossero a conoscenza del procedimento a loro carico, questa è la motivazione. Tutto da rifare dunque, gli atti sono stati inviati al GUP, che dire, il dolore per i genitori di questo sfortunato giovane friulano continua forse in modo ancora più profondo quando il percorso della giustizia incontra ostacoli così forti da non rendere possibile nemmeno un rigurgito di umanità verso la loro sofferenza. E per andare invece alle notizie più locali, passiamo, sfogliamo le pagine del messaggero Veneto. La prima pagina di Pordenone è dedicata al tema dei tamponi. Moltissime sono le prenotazioni nelle farmacie. A Porcia, negli installibilimenti Electrolux, la verifica del Green Pass scatterà dal prossimo lunedì. Scuola e trasporti a rischio, eccola qui. L'introduzione del Green Pass potrebbe creare problemi sia nei trasporti che nell'attività didattica. Vedremo nei prossimi giorni l'evolversi della situazione. Una notizia relativa alla società operaia, dopo la scomparsa della Presidente Rosa Sacotelli-Pavan è stato nominato il nuovo Presidente. Si tratta di Mario Tomadini, 67 anni, eletto all'unanimità dal Consiglio d'Amministrazione del Sodalizio. L'incarico ha il compito di guidare la transizione verso un assetto definitivo degli organi dirigenti dell'Associazione in vista della prossima Assemblea Generale. E poi una buona notizia che riguarda i giovani in questo momento difficile di pandemia. Riprendiamo la storia di una giovane imprenditrice, Valentina Gregole di Pasiano, che da dipendente di un'azienda ha deciso di mettersi in proprio avviando una sua azienda, vitivinicola, e aprendo il prossimo 22 ottobre un negozio nel suo paese. Un bel segnale di ripartenza che ci viene da una giovane una notizia confortante tra le tante negative di questi giorni. Passando al Veneto, diamo due informazioni e molto volentieri le diamo sul Comune di Portogruaro. Il Comune ha emesso un'ordinanza con la quale si dispone che nel primo giorno tecnicamente e meteorologicamente utile, tra il 18 e il 29 ottobre e fino al termine dei lavori di allacciamento della rete gas in via San Giacomo, in corrispondenza e prossimità del Civico 60, sarà istituito il senso unico alternato gestito dalla ditta appaltatrice. Qualora necessario, la direzione dei lavori potrà procedere con l'interdizione completa della circolazione ciclopedonale. E una seconda ordinanza, sempre del Comune di Portogruaro, ha disposto per domenica prossima, 17 ottobre, dalle ore 6 alle ore 24, il divieto di transito e la sosta di veicoli con rimozione coatta in via Padre Davide da Summaga in occasione della ventesima castagnata 2021 dall'Alba al tramonto, organizzata dall'associazione Viviamo Summaga. Potranno transitare solo le vetture dei residenti nelle ore di minora flusso pedonale o per casi d'urgenza. E naturalmente il transito sarà consentito per gli automezzi degli organizzatori e degli espositori. Spostiamoci a San Donà di Piave. L'Haus 4 Veneta informa che per effettuare i tamponi antigenici rapidi volti a generare il Green Pass o necessari per altri motivi personali, è necessaria la prenotazione. Può essere effettuata tramite il portale internet o da telefonino. La prenotazione si è resa necessaria al fine di gestire al meglio i flussi, anche in previsione, delle entrate in vigore dell'obbligo del Green Pass sul posto di lavoro. Il costo dei tamponi antigenici è previsto dal tarifario regionale, 8 euro per le persone di età compresa tra i 12 e i 17 anni, 15 euro per le persone di età uguale o maggiore ai 18 anni, 22 euro per le persone che non hanno assistenza sanitaria in Italia. Chi intende effettuare i tamponi nel Covid point dell'Haus 4 può dunque recarsi nelle tre note sedi previa prenotazione a San Donà di Piave in via Girardi 23, attiva 7 giorni su 7, a Portogruaro presso l'ex silos a dal lunedì al sabato e a Jesolo in via Levantina 104 dal lunedì al sabato. Per quanto riguarda i tamponi rapidi in farmacia, l'Uso comunica che il costo è invariato a quello applicato nel Covid point, in questo caso per fissare l'appuntamento va contattata direttamente la farmacia. L'elenco delle farmacie che effettuano i tamponi è scaricabile nel sito www.aulus4veneto.it nella sezione richiesta tamponi. L'accesso ai Covid point rimane invece libero e con tampone gratuito alle persone residenti nel territorio dell'azienda munite di prescrizione rilasciate dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta o in caso di convocazione da parte del Dipartimento di prevenzione mediante una mail. In questo caso l'accesso ai Covid point è possibile nelle seguenti fasce orarie. A San Donà di Piave tutti i giorni dalle ore 10 alle 13.30 e dalle 14 alle 15.30, a Portogruaro dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle 13.30 e dalle 14 alle 15.30, a Jesolo dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13.30. 43 operatori della Polizia Ferroviaria sono stati impegnati in questi giorni nelle verifiche e controlli sul territorio per il contrasto dei furti di rame e metalli in ambito ferroviario. È stata accertata la situazione di 13 depositi di rottami, mentre diverse sono state le ispezioni lungo la linea ferroviaria e su strada 96 le persone complessivamente controllate tra gli addetti di settore. I controlli effettuati dalla Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia nel corso dell'operazione Oro Rosso, al suo nono appuntamento annuale, hanno permesso di confermare il trend positivo degli anni precedenti, tant'è che anche nel corso di questa operazione non sono stati accertati reati né sono emerse irregolarità ed elevate sanzioni. Obiettivo dell'iniziativa, come Oro Rosso, è quello di scoraggiare i singoli e le organizzazioni criminali attive nei furti di rame e altri metalli, ma anche di esplorare gli eventuali collegamenti tra i furti e la ricezione di rame, di componenti metalliche o di diversi materiali destinati all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni e di altri pubblici servizi gestiti da soggetti pubblici e privati. Passiamo ora ad altre notizie. Nell'ambito della rassegna una luce sempre accesa, un ricco calendario di eventi è in programma da lunedì 18 a sabato 24 ottobre nella sala Lutazzi del magazzino 26 di Portovecchio a Trieste. L'accesso è possibile solo con il Green Pass. E a Treviso ritorna il Medioevo e non solo, una full immersion nella storia del VI secolo dopo Cristo fino al ventesimo, in particolare alla Seconda Guerra Mondiale. Un viaggio alla scoperta di arti, mestieri, abiti d'epoca. Oltre 100 rievocatori di 12 gruppi provenienti da tutta Italia animeranno la prima edizione di Eppocando, viaggio nella storia, rievocazione storica che si terrà sabato 16 e domenica 17 ottobre nell'area dei Bastioni di San Marco, nel tratto di mura di Treviso lungo Viale d'Albiano. Gli stand dislocati tra Porta Santi 40 e Porta Caccianiga vedranno un'area dedicata proprio al 1500, il periodo storico a cui risale la costruzione della fortificazione attorno alla città. E proprio alla mura che idealmente viene dedicata alla manifestazione, gli ospiti potranno visitare gli accampamenti dei gruppi storici e i rievocatori saranno pronti a raccontare le tante curiosità sulla vita civile e militare dell'epoca. E da ultimo Mauro Pascolini e Andrea Guaran del Dipartimento di Lingue e Letteratura dell'Università di Udine domani sabato 16 ottobre discuteranno di percorsi sostenibili dagli obiettivi ai luoghi 17 proposte tra arte, ambiente, cultura e società. La conferenza si terrà alle 18 nel monastero di Santa Maria in Valle a Cividale. Bene, amici di Media24 abbiamo concluso la nostra veloce carellata sulle principali informazioni di oggi. Vi ricordiamo che la nostra emittente è a vostra disposizione per trasmettere in diretta, televisiva e su web i vostri eventi. Contattateci ai numeri in sovra impressione o alla mail di Media24. Restate con noi, seguite i programmi della nostra rete. A tutti voi un cordiale buonasera. In alto i cuori. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.